Quella domanda lì, sei maschio o sei femmina, è proprio disumanizzante, perché è come se ti dicessero, cosa sei? Questa cosa o quest'altra cosa, dato che ogni altra cosa non può esistere? Ti conto come umano? Ti conto come mio simile? Io una parte di me, ma grossa, l'ho dovuta addomesticare, metterlo in un cassetto e chiuderlo per un sacco di anni. Per me la cosa importante era avere un corpo maschile, non vestirmi da maschio, fare il maschio, se io avessi potuto scambiare il mio corpo, l'avrei fatto subito. Avevo proprio questa difficoltà anche proprio a vedermi. Io mi identificavo come una bambina, alla fine non lo sapevo, mi dicevano che era una bambina, ero una bambina. Mi ricordo un bambino che mi chiese, ma tu sei maschio o femmina? Non volevo dire io sono una femmina, mi turbava, ma mi turbava anche dire io sono un maschio. E quindi mi rimasi in silenzio. Ci sono diversi modi di fare coming out. E quello migliore non l'ha ancora trovato nessuno. Una transizione di genere è uno degli atti incroenti più sovversivi che esistono. Per questo dobbiamo riempire il mondo di narrazioni nostre, anche pazzamente divergenti l'una dall'altra. E pazienza se si perde il rigore classificatorio, necessario le diagnosi. Tutti i miei amici stanno chiedendo come stai? Come stai? Ma io sto da Dio! E come avrei voluto crescere? E come avrei voluto crescere? Grazie a tutti